bello qua vero? guarda c'è un divano amore no vedi? che dice bello? non gli piace? ma va bello c'è la cosa sotto ah là c'è un altro qua stanno di più hai visto? buongiorno signora buongiorno io e mia moglie siamo venuti qua perché volevo decidere di comprare un divano siete venuti nel posto giusto appunto è vero amore che siamo nel posto giusto ne abbiamo così tanti dunque lo preferite con i braccioli? no perché dovevo andare a mare e poi signora sinceramente io so nuotare e mia moglie che non so nuotare infatti io uso i braccioli amore lo vuoi che braccioli divano? si amore coi braccioli lo vuoi coi braccioli poi le prendo la mano di tubo e tocca vabbè signora facciamo un altro giusto e poi vediamo di nuovo la signora che è simpatica va bene? ma veniamo signora resta qua no non mi muovo vabbè ci vediamo dopo signora arrivederci no non mi muovo vabbè